S'arriva lo scontro diretto sul campo del Rimini, l'Avellino evita il KO, subisce per almeno un'ora il gioco dei padroni di casa, va sotto di un gol dopo la cordezza di Docente, ma al quindicesimo della ripresa dopo un movimento di episodio in area avversaria, Amarelli di Como assegna tra le proteste un rigore e bianco-dello. Viene espulso il portiere Dei. Dal dischetto non sbaglia Ghirardello che salva il campionato dell'Avellino, anche se a pochi minuti dalla fine ancora il bomber De Lupis prega in modo maldestro il gol della vittoria. Rimini che mantiene il vantaggio di 4 punti.